Il lavoro che abbiamo fatto in palestra Chiudi le gambe e fai Il lavoro che abbiamo fatto in palestra Salvatore, fai tutto con calma Stai andando benissimo, stai rilassato Salvatore, è passato un minuto Quattro minuti È passato un minuto, quindi non distancare, non strafare Dito, prendi la mezza Anche il bravo, prendi la mezza Giuseppe Piano Nella finale giustandante, la bellissima mia e il canazzo Kevin Deve finire la nostra volta Poi si prepara il piano, Giuseppe Piano Maurizio Bravo Salvatore, schiaccia Salvatore, metà incontro, metà Bravo